Il messaggio di volontà, nel senso che uno vuole fare qualcosa di importante, vuole fare qualcosa che gli piace. Il messaggio è di non mollare mai, di essere sempre presente, di aver voglia di fare quello in cui crede. E' solo questo, perlomeno a me è servito questo. La cosa interessante è diventare allenatore, diventare professore, diventare... A me nella vita è mancata la cultura, io sento la mancanza dello studio che non ho portato avanti, se non fino al diploma di geometra. Però è una cosa che vorrei tanto e che anche loro dovrebbero imparare, che è molto importante.